Si sta nevicando, iniziato ora a nevicare, fantastico, qui da Montelupo, local tv, 556 tv, mentre si sta nevicando io sono qui, sono la base. Se si riesce a percepire, si sta nevicando. Comunque, visto che siamo in diretta, vuol dire che il media social point sta continuando a creare contenuti. Il prossimo incontro sarà sugli aggregatori, sui feed. Cosa servono? Perché si devono utilizzare? Tutto questo sempre in un open source, in creative common license. Niente, sono tutti strumenti gratuiti che avete messo a disposizione. Noi devono essere capaci di utilizzare. Ciao per ora, sta continuando a nevicare, qui, 556 tv, passo, ciao.